Sabato 26 settembre dalle 9 alle 13 si svolgerà ad Agrigento, lungo la cosiddetta Pretella della Via Dante, una mattinata di pulizia straordinaria nell'ambito della campagna nazionale di lega ambiente che si chiama Puliamo il mondo, che è arrivata alla sua 28esima edizione. Puliamo il mondo è l'edizione italiana di Clean Up the World, che si svolge appunto in tutto il mondo. Quest'attività di pulizia rispetterà tutte le prescrizioni dei protocolli di questa fase post-emergenziale, i partecipanti verranno registrati e verranno comunque coperti da assicurazione. Questa nostra iniziativa ad Agrigento acquisisce un valore particolare perché abbiamo adottato una formula che prevede il coinvolgimento dei sei candidati a sindaco e degli oltre 500 candidati al Consiglio Comunale, perché vogliamo che appunto si confrontino con uno degli argomenti cardine di questa campagna elettorale, quella dei rifiuti e in particolar modo, in questo caso, dei rifiuti abbandonati. Noi sappiamo che la Pretella della Via Dante, ma anche altre strade diciamo più remote del nostro territorio comunale, sono oggetto di abbandono dei rifiuti da parte di chi si ospira a non fare la raccolta differenziata. Quindi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Sarà, speriamo, un grande giorno di festa, più che di confronto aspro su queste tematiche, perché la città appartiene a tutti e quindi tutti abbiamo il dover di tenerla in ordine e pulita. Tre candidati al sindaco hanno già aderito e alcuni consiglieri ci hanno fatto sapere che saranno presenti.